Al Ciccione va in scena Imperia-Baiardo-Nerazzurri alla ricerca della settima vittoria consecutiva per continuare a lottare per la serie di Draghetti, reduci invece da una vittoria casalinga alla ricerca dei tre punti per confermare un più che tranquillo posizionamento in classifica. Via il match dopo un primo tentativo di Sassari detonizzato dall'estremo difensore genovese, bastano 14 minuti all'Imperia per passare in vantaggio. Minasso entra in area da posizione leggermente decentrata, batte Biggi mettendo così la sua firma sul 1-0. Prova a reagire il Baiardo con Briozzo al ventesimo, poi ancora Imperia con Capra che entra in partita ma si divora da distanza ravvicinatissima la rete del 2-0. Il primo tempo si conclude con un tentativo di battaglia al 33esimo e con Capra che cade in area di rigore ma riceve il giallo per simulazione. Con le immagini di Fabio Molinari passiamo allora alla ripresa ed ecco al 53esimo minuto il pareggio del Baiardo. Battaglia parte dal limite del fuorigioco, supera trucco e accomoda. In rete il gol del pareggio è l'undicesimo centro stagionale individuale. 17esimo minuto della ripresa Ferrara prova a riportare i nero azzurri in vantaggio. 20esimo anche Provenzano finisce sul taccuino dell'arbitro come Capra per simulazione e poi al 26esimo Sassari ha un'incredibile occasione per passare in vantaggio che però spreca così poco male perché per fortuna dell'Imperia ci pensa il solito Capra. Di testa all'85esimo e al 92esimo scartando il portiere 2-1 e 3-1 in 5 minuti. 12 gol in stagione come Saviozzi lassù in cima alla classifica. Colonieri di eccellenza e con questa immagine finisce al ciccione Imperia batte Baiardo. 3-1 all'ultimo respiro ma all'ultimo respiro vince anche il Sestri. e allora la lotta ormai a 2 per la Serie D continua.